Rossini TV spegne 5 candeline. Quinto compleanno ma anche il primo nella rinnovata veste di Canale 80 che ci accompagna dallo scorso marzo. Mercoledì 30 novembre è andato in scena un momento conviviale per fare festa con lo stesso filo conduttore che ha accompagnato i precedenti anniversari. Quello di ritrovarsi nell'accogliente quartier generale delle celebrazioni di Casa Poderosa, quello di farlo in compagnia di sponsor, amici e istituzioni del territorio che ci hanno accompagnato nel crescere e migliorare quel lavoro avviato 5 anni or sono da Emanuela Rossi e Andrea Marcelli. Era il 2017 quando io e Andrea Marcelli abbiamo deciso di creare questa emittente per il territorio quindi per la provincia di Pesaro Urbino e per la regione Marche e in questi cinque anni per fortuna il pubblico ci ha seguito tantissimo, ogni anno il pubblico che ci segue cresce sempre di più e crescono sempre di più i clienti che voglio ringraziare che questa sera una parte insomma li vedrete partecipare a questa festa. Io ogni anno Francesca creo questa festa non solo per festeggiare il compleanno di Rossini TV ma per ringraziare i clienti, per ringraziare lo staff professionale di cui io sono molto orgogliosa e chiaramente per far vedere tutti i programmi che stiamo facendo e realizzando. A casa poderosa una serata trascorsa in allegria guardando a quanto è stato realizzato da Rossini TV e quanto ancora si farà. Dall'informazione ai programmi di intrattenimento, dagli approfondimenti ai video aziendali. Il tutto accompagnato dalla trascinante simpatia dei nostri Nicoletta Tagliabraccia e Paolo Pagnini che hanno accompagnato la festa con la divertente lotteria che ha elargito regali natalizie ai presenti grazie alla generosità degli amici sponsor che hanno donato i loro prodotti aziendali. Rossini TV festeggia il suo quinto compleanno e ora varca la soglia di un sesto anno da vivere sul canale 80 vedendo e rivedendo tanti programmi che hanno contrassegnato questi 12 mesi. Green Tour insieme a Canestro, Fix Fit, Check Up Obiettivo Salute, Spazio Z, Pesce Azzurro Quiz Show e l'ultimo nato ci inviti a cena. Natale però ha già in serbo altre novità. Chiaramente anche nel periodo natalizio Rossini TV porterà avanti l'informazione, la rassegna stampa, il telegiornale. Vedrete tanti programmi di intrattenimento con il San Costanzo Show ma soprattutto Roberta, la nostra Roberta, si è cimentata in Aspettando il Natale con Roberta, un programma dedicato ai bambini che appunto li accompagnerà per tutte le vacanze natalizie. Grazie. Grazie.